Stanotte, oltre a 50 militari della Compagnia Carabinieri di Giara, supportati dal nucleo cinofilo di Nicolosi e dall'aliquotino di pronto intervento del nucleo di mobile di Catania, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia che è trovata in carcere in confronto di quattro soggetti, ritenuti organizzatori e promotori di un'associazione del nucleo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta dal settembre 2019 all'agosto 2021 sotto la direzione della DDA Etnea, ha consentito altresì di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente sia a Giarre sia a Catania, nel quartiere San Giovanni del Galerno, e di individuare altri circa 20 soggetti che a vario titolo, soprattutto come cusci, roperavano per conto della predetta associazione criminale. Nei quei confronti, nei giorni seguenti, si procederà alla notifica dell'avviso con l'usione di indagini preliminari. Nel corso di attività di indagine sono stati recuperati oltre 350 grammi di cocaina, oltre un chilo di marijuana, 1000 euro in contanti, arrestati ben 10 pusher.